e lei con me sta lavorando come fa l'aid perché fa l'aid Ah perché Glielo dovevo spedire Vabbè non lo so Vabbè ma quando i computer Facciamo una cosa andiamoci a dormire Grazie Salve vado a dormire vado a casa io eh Salve 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 Mamma mia che schifo Quale cazzo è la casa nostra ma che cozzo è Perché dovrei comprare un robot girl Un po' questo gioco ragazzi A me mi spaventa sto gioco Siamo qui? Allora dobbiamo mangiare Ok 50 dollari Grazie molto gentile E dormiamo Ingegnere De gabbo Ok abbiamo dormito mangiato Ok torniamo alla nostra Poi raga non lo so qua ci sono dei posti strani Sto gioco non lo so Io ho capito un attimo Ok salve Siamo tornati qua Allora Un po' che ha fatto questo computer Mamma mia questo vecchiotto Questo computer Per favore Aggiusti il mio computer Ah proprio così il biglietto Oh mio dio Allora Quando fa la schermata blu Di solito È l'hard disk Potrebbe essere l'hard disk Vabbè proviamo a smontarlo Eh raga io pure Io assemblavo computer Me ne sono capitati di errori Quindi un po' so già dove Quello devo fare Allora potrebbe essere l'hard disk Ma proviamo a vedere se potrebbe essere l'hard disk Signori Potrebbe essere l'hard disk Cioè vedo un errore Potrebbe essere l'hard disk Ma che è sta Catapecchia Eh oh The king Questo Cattiva di mani che siamo miliardari Ci possiamo permettere le cose qua Cioè troppo Cioè 50 dollari per mangiare Se ne vanno Cioè Ok 79 79 Fixiamo Eh quindi il problema era Era questo Comunque quello di prima voleva un imballaggio Sì assomiglia molto a Sì ciao Pepin Sì assomiglia molto a Internet K Simulator Eh anche un po' da come Un po' la grafica Un po' Anche lo stile del gioco insomma Però a meno là Il gioco era in italiano Capito? Invece qua no Qua è tutto in inglese Io guarda spero Perché il gioco è molto bello Spero veramente che Facciano una patch Ma anche una Ma anche una traduzione sbagliata Di italiano Anche che ne so Se non sanno i verbi Non fa niente L'importante è che si capisce Quello che devi fare Ti danno l'oro 50 dollari Sì Cazzo mìa Il pollo Con sopra le cose Scaglido Ok raga Abbiamo sistemato Ovviamente Potremmo anche comprare Nuovi hard disk Le cose Però ragazzi Sinceramente Io i soldi Me li vorrei tenere Perché se dobbiamo Abbellire questo posto Sinceramente Ok Abbiamo rimontato L'hard disk Vediamo se funziona Il computer Scheda video Ok Scheda video Che c'è? Cazzo monto Una Z Z Z Z Z Z Tx Ma perché Meno 20 giga Ma che significa Meno 20 giga E vediamo un po' Che ha fatto Qual è il problema Di questa scheda Scheda video E poi E poi L'abbiamo riparato Il giovane ragazzo Qui del computer No non lavoro King E' una rtx 4090 80 Allora 80 Vai Fixalo Però Sì Però Ragazzo Sicuro che il gioco Prima o poi Ci dirà Non puoi riparare Non puoi Non puoi riparare Il gioco Cioè Non puoi riparare Il pezzo Devi comprarlo Perché Qualche soldo Ce lo farà Spendere il gioco Ma è normale Ragazzi Non penso che Andrà sempre positivo Sto fatto Per riparare i pezzi Se no Ci guadagniamo Nonne di più Il doppio Guadagniamo Così Ripariamo Ci intaschiamo i soldi Senza spesa Senza aver speso nulla Poi Qualcosa ci farà Sicuramente Da no Devi comprarlo Poi abbiamo pure Sta pistoletta Qua Non so che cazzo E' sta pistola Qua sopra Questo è per pulire I computer E va bene A dargli una soffiata Anzi Anzi Lo proviamo a usare Questo Poi è un po' Un po' sporco Pure Andiamo una riparata Ok Prendi questo Ok Prendiamo un attimo Questo Dai una bella Ah no Il computer E' pulito Beh Andiamo Una Spurrata Ok E vediamo un po' Se il computer Si asciende Ok Se va Yes Ortei Era anche la scheda video Da sistemare Datti di sirene Allora Vierà Rapposto Funziona Ram 10 giga Display card Quindi da 20 giga Era 20 giga Era la La scheda video Caputana Vabbè Ok Mettiamolo qua Lo dobbiamo Impallare Ok E che cazzo Un altro Ragazzi Come mi sono a portare Oh Dai Non faccio in tempo Oh Allora c'era Prima questo Di computer Vediamo un po' Che problemi C'ha Eh la schermata Si Per favore Ripara il mio computer Ah ormai sono i messaggi Così Da un po' Quindi abbiamo Andato a tentativi Che cazzo Che cazzo è Che cazzo è Potrebbe essere La CPU Potrebbe essere All BIOS La scheda madre Potrebbe essere Proviamo a vedere Se la scheda madre Eh Quando fassi i rumori Vediamo Vediamo un po' Se questa scheda madre Secondo me si Fa dei suoni strani Non si avvia Potrebbe essere Scheda madre No potrebbe essere Eh infatti Scheda madre Ragazzi 26 Errore 26 Signori Ne ho passati talmente tanti con i computer Ragazzi che So quello che faccio Questo è un gioco fatto proprio per me secondo me Notti di sirene Non è non è feria Comunque sto gatto mi ha rotti i coglioni Non è Minu, il gatto in gioco qua Deluxe più uno Quindi potrebbe essere questo Quindi ormai i messaggi Ci posso dire Arrange ti scopri il problema Non mi funziona il computer Poi ci sono quelli più dettagliati Allora Cobra FIFA Ho chiuso una stagione con il Bari Dove puoi andare a vedere anche su youtube Tutta la serie Della prima stagione Della prima annata col Bari E mo sto iniziando la seconda Dai un calcio Un cazzotto i tiro Ok allora E niente vabbè la rimontiamo Vediamo un po' Vediamo se si accendeva il computer No Ho lo stesso problema Allora non è Però era anche la scheda madre In questi casi potrebbe essere O l'hard disk Potrebbe essere anche le ram ragazzi Proviamo a togliere un attimo Un banco di ram Insomma potrebbe essere anche le ram potrebbero essere Ram cpu pure Quando non si avvia da quei suoni strani potrebbe essere qualsiasi cosa però Comunque ragazzi La cura dei dettagli delle ram è tanta roba ovunque Ok ram 91 Matti di sirene Poriferia Ma fai la lei su Twitch di FIFA Ma certo cobra Quando Faccio sempre su FIFA Sì poi dopo la ricarico su youtube Intanto mi sono a portare altri computer Signori ma Qua mi sa Ma scusa Ma mi sa che potevamo assumere la gente Mi sa che potevamo assumere qualcuno Ma dobbiamo vedere pure quanti soldi abbiamo Ragazzi non so quanti soldi abbiamo Fino adesso Eh infatti ci stava mettendo un pozzo Una frega per Per riparare sta Sta cazzo di ram Forza sta cazzo Secondo me ci metterà sempre più tempo E ci costringerà sicuramente a comprare pezzi nuovi Vabbè Io però c'è sto suono del gatto Anzi basta Cioè metterà ansia Allora vediamo un po' se si accende sul computer Ok pare che sia andata Sì quindi era schieda madre E ram il problema Ok computer funziona Spegniamolo Consegniamolo Sì vai Un altro computer mi raccomando Ma ne metti un altro Ma scusa Ma io non posso chiuderci No non voglio più computer Porca troia Ma Computers working Ah allora io ho questo computer per lavorare Insignore update to display card Ah dobbiamo aggiornare La scheda video Ok Use your computer clean it Ah dobbiamo Overclockare il computer La cpu Ah poi dobbiamo scaricare Aro Nel computer E aggiornare i driver Update drive my computer Sì Dobbiamo aggiornare i driver Il sistema operativo You can't have my operations Ah Dobbiamo mettere il sistema operativo originale Eh un culo Un bel po' di cose dobbiamo fare qua Allora Partiamo con Aggiornare la scheda video Che vi ho detto Che poi i soldi ci li fa spend Allora Che scheda video c'è Ah non c'è Ah è sprovvisto di scheda video Oh porca puttana Ma che cazzo di scheda video ci mettiamo a questo Però aspetta Lo vuole fare da gioco Il computer Quindi Che scheda video li mettiamo ragazzi I prezzi vanno fino a 99 Eh no Vabbè tutti questi soldi no No scusa Ho sbagliato Porca Eh ho fatto un macello Perdonate Eh di spray card Eeeh Ma una da 4 giga Secondo voi Sta bene Da 3 o da O da 6 giga Ho saputo il lavoro La mia porca puttana Che dite ragazzi 6 giga O 4 giga Bastano Fai una Che cazzo Ci devi solo giocare Ah ah Lo ci devi giocare Comunque abbiamo 2500 dollari Comunque Stiamo facendo soldi Dai raga però Fiottini Dai Che vogli Che scheda madre vogliamo prende Scheda video Cioè no Da 20 g Da 20 g che è troppo Secondo me Non te lo dice sul biglietto Eh che non lo so se me lo dice sul biglietto Che scheda Che scheda Grafica ci vuole No dice solo Mi servono Prendete Display card Cioè ho bisogno Di una scheda Di video Dobbiamo pulire il computer Abbiamo per Cloccare la cpu Eeeh Cioè non mi dice Che scheda Quindi posso sceglierla io Volendo La scheda La scheda video 8 giga La 2070 Eh dai vabbè 8 giga dai Ok aspettiamo che arriva Il drone Tanto quei computer Aumentano Posto di merda Dunque dopo ragazzi Dobbiamo avere Se ci fa Aggiustare il posto Se ci fa mettere Che ne so Se ci fa bellire il posto Non lo so Messi così mi preoccupo Ecco il drone Non so cosa Il drone è tanta roba Oh Ho fatto chiappare una parale Si ingula la puttanella Cioè ma si scatola Poi non li possiamo buttare Cioè come funziona Notti di sirene Ok quindi Adesso dobbiamo Overclockare La nostra Pause Accendiamo il computer Che problema c'ha Potrebbe essere La Zandisk Potrebbe essere Dio ne potrebbe essere No no ma è questo Quando fa la schermata Blu ragazzi No non preoccupatevi Se ve lo fa anche Nella vita reale È o L'hard disk O la scheda madre Cioè due sole cose Non potete Allora 11 O il bios Che bisogna Che bisogna aggiornare Il bios Vabbè Però in questo caso Abbiamo scoperto Qual è il problema È un altro computer Mi hanno portato Vabbè Intanto che fa Io comunque Mi posso muovere Ma sta roba Io non la posso chiudere Cioè dai Veramente Mi si stanno accumulati Che ci faccio Questi scatoloni Io Eh butta Sto cazzo Scatolo Lasciamelo Un altro computer Chi si tanto Vabbè Allora Fatemi vedere una cosa Neffrettiamo che quello ripara Ma se io vorrei Aggiornarmi Cioè Il posto Non me lo fa Aggiornare Ah possiamo Prendere Un buttafuori Uno che ci ripara I computer Questo che è seller Che cazzo fa Questo scusami Però non possiamo Abbellire Il nostro posto Non lo so Vabbè Comunque Mi fa un po' pietà Sto posto Posso dirlo Forse Che fa la scansione Che fa la scansione Vediamo una pulita A sto computer C'è la merda Ci sta dentro Assumi un operaio Eh ma tra poco Mi sa che dovremmo Assumere un operaio Eh se continuiamo A portarci la roba Così Però raga vorrei fare un po' Qualche soldo Prima Siamo a 2005 Ok dobbiamo riparare Il 20 Un altro computer Ci hanno portato Ok sta riparando Il fatto raga che si scatoloni Non so che farci Cioè sinceramente Ma se abbiamo alcuno Eh madonna Poi Un altro computer Oh un altro computer Volevi portare Chi me lo porta L'altro computer Non lo so io qua Aspetta 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 Se li mettono Quei scatoloni Che succede Ah no Comunque Niente Vabbè Ma verrà Raga Vediamo se la scheda Per le scatole Forse c'è un cestino Boh Non lo so Forse dovremmo buttarle Aspetta c'è sto cestino qua Vabbè dopo Dopo lo vediamo Nel frattempo Scusa fammi vedere Se io prendo qua Euh Ma lo Qua me lo fai buttare No vedi Non me lo fa Ah si 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 Ci sta ci sta un cestino Vaffanculo va Ah mi da pure 10 dollari Mi da Eh signori Ah meno male A meno Qualche soldo Vabbè Carca puttana Lo guadagniamo così Brava D'Angelica Un applauso Angelica Allora Ok Qui è riparata Andiamo un po' Se funziona Sto pc C'è un caccio Altri errori strani No va E' partito E' partito E' partito Oe Pasquaro Buonasera Buonasera Oe Allora Cosa voleva Installato Il giovane ragazzo Qua Allora Ah Dobbiamo Overclockare A 65 La cpu Quindi ok Non Giove Di cose strane Allora Overclockare La cpu A 65 Oh mio dio Che è successo Overclock In Cioè Non si può Overclockare Sì ma c'è Tanti spam Guarda là Scusa Proviamo a fare Una cosa Prima Madonna Chiudimi Ste cose Chiudi Chiudi Oh Ma vien da pazzo Mo App Dobbiamo installare Poi vabbè Questo Lock Massage Virus Butchmaker 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 Eeeh Ma questo è un problema Eeeh Blatchmaker Eeeh Aspetta ragazzo Ho capito Un attimo Il da farsi Allora Non possiamo Overclockare La cpu A 65 Ah Megahertz Minimo Ah aspetta Aspetta Forse ho sbagliato io Perdono Megahertz 229 E dai però Chiudi ste cose Allora Allora Overclockare 75 Megahertz A 22 Paghiamo 20 dollari Eh ma Eh ma non va Non va Non va ragazzi Non va Non va Cioè Non posso Overclockarlo Il computer Ah 229 Non 222 Vaffanculo Ho sbagliato io 229 Paghiamo altri 20 dollari Tanto Eh Hai rotto il cazzo Hai rotto il cazzo Hai rotto i coglioni Dillo Eh Eh ma non posso Eh non posso Overclockarlo Eh Dovrei cambiare Dovrei cambiare La cpu Eh Dovrei cambiare La cpu Che cpu ha Eh Se vuole Overclock Io devo cambiare Anche la cpu Eh cazzo C'ha un Intel i7 Porca puttana E perché non me la fa Overclockare Scusa Eh non posso Overclockarlo Il giovane ragazzo Eh Io non ti posso Fare niente Eh Io su Michael Klened Io overclock My computer Cpu Minimo 065 Minimo Hearth 29 Io Play Hero 47 My computer Scheme Ma non lo so Ragazzi Non mi fa Overclockare Il computer Di questo qua Non capisco Proviamo a Fare una pulita Con la Cazzo C'è ora Che virus Ma facciamo Un po' di cose Allora Questo non c'è Questo non c'è Un cazzo Non c'è Installa lì Que Ma Ah si siamo addormentati Mentre stavamo Vabbè Giustamente Sì Sì King Madonna Ste cose Ok Ma l'hai installato Ok Apri Fa una scansione Antivirus Vediamo un po' Perché potrebbe essere Anche un virus Che impedisce L'overclock Alla scheda Alla cpu Oppure C'è una cpu Che non si può Overclockare Io ma che cazzo Devo fare A sto ragazzo Mi dobbiamo mettere Anche il programma Originale Ah Zero virus Trovate Mi dobbiamo copiare Anche Pasqua Che Generator Ah Ci abbiamo Sonno Allora Aspettate Un attimo Dobbiamo Fare Così Enter Che C'è la Madosca 6 F Sto va Su siti porno Come sa O B Z C Ok Gli ho messo A che il programma Originale Ehm 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 C'è la Madosca Oh Ehm Allora Una volta Que Eh ma Non li posso Overclockare la cpu Eh Successo 29% Vedi Eh no Non posso Overclockargliela Ehm 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 Successorate C'è come il 30% Che succede Sozzorelloni Ma Riproviamoci Ma Ehm Ehm Vabbè raga Non glielo Cazzi suono Gli overclocko Eh Mi spiace Signore Io non Non posso C'è una cosa Che non riesco Fare In questo momento Allora Messo Verasistema Predio originale Caio Fix Tease Ehm Ma Ti posso scaricare il gioco Più di quello Non posso fare Cioè Sinceramente Ehm Cioè Più di quello Non posso fare niente Ehm Non me la fa per cacca Cioè Come Come lo vuole lui E' impossibile Dovrei cambiare Dovrei cambiare C più Ma C'ha già la 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 I7 Scusate Cioè Che cazzi metto Ok Tutti i giochi Haro Opposto Scusa Ma se va su Haro Mi fa giocare Ok Perfetto Ehm Mi fate fuori Mi fate fuori di testa Process my computer Process my computer Aspetta Aspetta Mi sa che devo aggiornare I drive Possono essere i drive Che potremmo Proviamoci Voglio aggiorniamo i drive E niente Ricordati Quanti frame Fa 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 40 fps A merda Ram CPU Vabbè Overclock Non me lo fa fare Ok Eh no Scusa Come li raggiorno i drive Ah update Così Oh Madonna che palle Per ogni 5 secondi No Non vuolo Quindi Dobbiamo aggiornare Tutti i drive Aspetta Potrebbe essere Questi i problemi Potrebbe essere Anche quei che La CPU Potrebbe essere Che non mi fa Overclockare La Voto Ci riprovi Oh se non mi posso Cazzi su Si attacca il cazzo Non mi posso Fa niente Io Processore Vedi Processore Potrebbe essere Processore Il problema Che non hai Tra i drive Aggiornati Vabbè Mo gli Li rifacciamo Tutti Gli aggiornamenti Gli rifacciamo Tutti A questo Signori E palle Sti cazzo Di messaggi Cioè Mi danno fastidio A me Figurati Cioè tu Pensa un po' Se uno Perché ci sono persone Che hanno veramente Questo problema Al computer Cioè tu Pensa un po' Oh dai Dai Mannaggia La miseria Mannaggia Ok Li aggiungiamo tutti i drive E E niente Gli abbiamo fatto anche Il test della scheda Grafica Gli abbiamo messo Anji Profumo Di Anji Ok Fatto questo Abbiamo messo Il programma originale Gli abbiamo messo Craccato ovviamente Abbiamo craccato prima Come avete visto Quindi ok Va bene E E mo li proviamo a fare Su overclock Ma Provamoci Paghiamo altre 20 dollari Che me fa dai Mi dispiace Cazzi tuoi Ti tieni quelli C'è T'arranci Non posso fare niente Giovanni C'era assente Ok Il computer è pronto Eeeh Come posso La cucina Completa No È completo Sono 1200 dollari Mi devi dare Struns Muovete pure Salve Eh Sei incazzato No Non lo so A caso No Non mi dica Io ho dato la pennetta No 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 E mo No Ma E mo come Scusa come faccio Non posso Sicurare la pennetta No No E mo E mo Scusa come faccio Posso ricomprare la pennetta Ma no Ma che mister Di Scusa No Scusa Impossibile Dai Scusa Non è che me la fai comprare Su zimzor Qua No E mo Come faccio Senza pennetta Io Ma porca Vabbè Scusi Ma non ha visto Una pennetta La Mario Bros Vabbò Facciamo una cosa Andiamo a dormire Vediamo un po' Se Che ne so Me la rigenera Cazzo ne so Eh Non posso più lavorare io Se gli do la pennetta Salve Giovane Vediamo un po' Raga Forse Senza la penn Salve Ma penso che me la rigenera La pennetta Dai Quella è una cosa Che serve a me Non penso che Non me la da più Scusami Ma no Ma come Mo che cazzo faccio Ma cosa Non so cosa serve Ma no Ma no Disastro E mo Che cazzo faccio Mo Dobbiamo pagare L'elettricità E mo che Cazzo faccio Scusatemi Senza pennetta Io Sì va bo Eh Sì va bo Ma allora Scusami Gioco Io capisco Cioè Ma che fa Mo Cioè se uno si Ci prende Che fa Gli ho dato la pennetta E Che cazzo faccio Ragazzi Mo Mannaggia La miseria Mannaggia Sì Che Non mi posso riparare I computer Mannaggia La puttana Mannaggia Vabbè Eh Install WinMap E come te lo installo WinMap Mannaggia La puttana Mannaggia Per favore Non piangere Non ci rimanere Male Ma porca puttana Ma porca puttana Vabbò ragà Andiamo avanti Lo stesso Mo Start Scan Sistemiamo Apri la mappa C'era un negozio C'era un negozio E ora andiamo a vedere Aspetta che cazzo di muro era 13 Allora Facciamo una cosa Mettiamo a riparare Questo No Sbagliato Porca puttana Mappa Mappa Oster Computer shop Computer party Post Computer party Poi va bene Computer part O computer shop Ma andiamo a vedere Prima Computer part Ah Ah qua Ma vaffanculo Dove sta sto Dove cazzo È sto posto qua Dove cazzo Dove si va Dove si va Ma Ma salve Sì ho capito Ma come faccio Sì Come cazzo faccio Ah no Io non voglio comprare No Io voglio comprare Una Ma dai Non mi dica Non ce l'hai la pennetta Mo Ah eccola qua 50 dollari Ulo Tata E ho capito Ma Aspetta Ma 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 me la data Scusa Ma la posso prendere 50 dollari Raga Porca puttana Per una pennetta Di merda Ok Ce l'abbiamo tutto Signori Possiamo Rilavorare Ok Accendiamo il computer Giustagliamoli Winkoso Buonasera Ivan Buonasera Oh accendi sto computer Ah no Giustamente Sto giustata Perdona 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 Fatta 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 Io ti chiedo Scusa Porto Naro Io ne prenderei due Eh mi sa Da ancora errore sto computer Cosa può essere La cpu L'abbiamo No la La cpu potrebbe Stiamo nella contata Sta cpu Ragazzi Vediamo Intanto che sto facendo Possiamo dare Una bella Zuffata Ok pulito I computer si sono Accumulati Però scusa Lei mi faceva Comprare il computer Dopo vedremo Pure sto fatto Perché mi faceva Potevo comprare Anche il computer 70 E forse possiamo Sistemare Il nostro Il nostro negozio Possiamo mettere Il computer Assumi l'operaio Eh mi sa Che ora conviene Assumi l'operaio Però ragazzi Perché mi faceva Comprare Un altro computer Non è che forse Ci fa togliere Non lo so Ci fa togliere questo Forse Potremmo Cambiare Tassiera Ma Non lo so Non lo so Potrebbe Allora Stiamo riparando La cpu Dunque ragazzi Ovvio Ho speso un po' I soldi A quello la Mi dispiace Non gli abbiamo potuto Overclockare la cpu Ma io non sapevo Cosa farli Non me la faio Cioè Non va Sapevo cosa farli Proprio O cambiare la cpu Potevamo cambiare La cpu Mettere la stessa Guarda che va Ma hai un banco solo Eh c'è un banco solo Infatti Non posso manco Assume Sinceramente Non Non so Non lo so Sinceramente Poi cosa Sinceramente fa Ok Vediamo un po' Se parte Sto computer Tutto nero Ok ragazzi Il computer è partito Era la scheda madre Cpu Perché avevano problemi E Moi dobbiamo installare Quel cazzo di coso Là Nel frattempo Che si avvia Ah Ho attaccato La pennetta Ok Fresh drive App Winmap Sta là E poi mi sa Che non serviva altro Mi sa Ah vabbè Sistema il computer My operation Ah vuole Sistema originale Ok E mettiamo Sistema originale Di windows 4 T C 0 Y 0 1 6 Ragazzi Concentrato Scusatemi A 0 G 4 Ok E Posso Computer L'abbiamo fatto No Quindi Siamo Scaricato Quello Là Metti Siamo Originali L'abbiamo Fatto Sistemato Il problema Allora Quindi Qua si può Puri Chiude E Spedire Dai Dai Servono Soldi Chiudi Spedire E qua Siamo Pagati No La pennaggia La La pennetta Caputana Sta pennetta Guarda Moglia Regalavo Pura Quella La pennetta L'altre 1 80 dollari Mi dai Ma Vaffanculo Tutto Quello Che mi è Costato 80 dollari Salve Salve Grazie Ah no 380 dollari Ok Diversa Ok Vai Avrete il prossimo Questa qua Dobbiamo veramente Assumere qualcuno Porca Puttana Salve Allora Cosa abbiamo Qua Ehi Allora My Clan Ah Dobbiamo Overclockare La CPU Dobbiamo Aggiornare I drive Ah La mia Password 1 2 3 4 5 6 Eh però Cazzo Posso tenere I computer Polverosi Così Non mi funziona Non funziona Non mi si raffredda Il computer Perché Perché ci stanno 600 anni di polvere Dentro Porco Dio Ha fatto il cemento Perché quando la polvere Si riscalda E si Si secca Diventa come il cemento Diventa Io infatti Ogni mese Il computer Lo pulisco Cazzo fate A fare i computer Così Allora Dobbiamo Overclockare Il computer A 024 194 Ah no Collegare La pennetta Se non possiamo Un gazz Vai No Aspetta Ehm Si 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 Che ha fatto Questo computer Ma Scoppietta Ho capito Qual è il problema Mi sa che È l'alimentatore È andato Un po' D'aceto Un po' D'aceto Balsamello Non lo so Testiamo Eh ma Testiamo Eh PAM Quando fa così PAM Eh mi sa che potrebbe Ma metterci un operaio Eh vedi che era L'alimentatore 23 Andiamo un po' Di sistemare Di Li saldare i circuiti Cambiando un po' E così Va bene Nel frattempo Stiamo sistemando Ehm Abbiamo pulito Abbiamo pulito Il computer Eh mo Vediamo un attimo Andando qua Sono portate computer No Male E poi facciamo Quei andiamo a dormire Andiamo a mangiare Perché sono Questo muore Mi sviene All'immense Operando qua E poi raga Proviamo a assumere Qualcuno Dove si assume Va qua la gente Si Potremmo approvarci Ma culo 1500 dollari Mi costa No raga 1500 dollari Per il momento No C'abbiamo pochi soldi Non posso spendere Tutti questi soldi Cioè culo 1500 mi costa Ah aspetta Però noi potevamo Anche skillare Dov'era che si skillava Ehm Skill Eh raga Possiamo Possiamo metterci qua Eh La riparazione È più veloce E almeno Cominciamo a skillare Il personaggio Se no qua Siamo Siamo a Cioè Vabbè Hai capito Allora Io un po' Intanto me l'ho portato Anche un altro computer Vero? C'è la madosca Ok Magari gli affari Andrebbero così Uh È la CPU Il problema Signori pure Quindi L'alimentatore L'abbiamo sistemato Ma è anche la CPU Signori Il problema Start scan Uè Anto Buonasera Qua stiamo Qua stiamo Nel negozio Di computer Riparando Sclerando Sto bestemmiando Guarda qua Ci stanno a porti Computer C'è Non puoi capire Un posto Un posto esagerato Vedi che cazzo Abbiamo combinato Per aprire sto posto Che cazzo Allora Che è successo Scan complete Ah ok La CPU Non ha Non ha problemi Ok E allora Potrebbe essere La scheda madre Potrebbe essere La scheda madre O l'hard disk In questo caso Però Proviamo prima La scheda madre Potrebbe essere La scheda madre Fai 750 Sembra una cantina Lo so Computer Votamaz Votamaz Hai visto Eh vabbè Non lo so ragazzi Eh infatti Sì È la scheda madre È 79 Da sistemare Ok Intanto che sta sistemando Questo E niente Possiamo fare niente Dobbiamo aspettare Diamo un'occhiata Ancora al bigliettino Allora dobbiamo Cliccare Dobbiamo aggiornare I drive Ok La password 1, 2, 3, 4, 5, 6 Non ci dobbiamo scordare Se no C'è la blocchia Ah vabbè C'è la C'è la chiavetta Con l'hackeraggio La scheda forma 1 Bravo Perché Mo Ci faremo un po' di carette Ok Ok Vediamo se si accende Quindi c'aveva L'alimentatore Che scoppiettava La scheda madre Non funzionava Bubuta Ok Si è acceso Passo 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Bella l'immagine Ci stanno Cosa Oh che c'è Ah sta ancora caricando il computer Ma Vabbè Ma che si immagini Stop Immagini senza senso Vabbè Allora dobbiamo overclockare La CPU A quanto Dovemmo overclockare Mi ricordo Arrivo a 25 24 194 24 194 Ok Allora 94 No 25 No 24 Vabbè la cazza era 24 Ulobam mi ricordo un cazzo 24 194 Ok Allora 24 194 Vediamo se questo A me c'è Sì Io non capisco Perché non mi fa Overclockare più Ultimamente le cose Vabbè Computer Aggiorniamo i drive Ma mica Teniamo i drive Ma mica Io dobbiamo mettere Il programma originale Mi sa che non l'ha detto Il programma originale Mi sa Oh sì L'aveva detto Il programma originale Do Michael Glenn You overclock My computer Sì ho capito Ma io mo Questo Non glielo posso Overclockare Scusatemi Che faccio Che faccio Io devo cambiare La cpu Che cazzo devo fa Non è che devi fare Il contrario Mo Eh no Aspetta Aspetta Mo controllo Fammi finire Aggiornare Se cose No Non glielo ho aggiornato No Potrebbe No Potrebbe No ma 024 194 94 No Questo è il No no Questo si è Però non me lo fa Overclockare Non so che fare Non so che fare Sinceramente Non lo so Mettiamo 100 Eh ma Non è come quello Che mi ha detto il cliente Però capito Che Abbasso i megahertz Il Cosa è successo Sale Non lo so ragazzi Io se no Devo cambiare La cpu Non lo so Fammi D'an'occhiata Aspetta Fammi vedere Un attimo Una cosa Ehm Ah Che ho un po' Fogli una cosa Io L'autocrack Vedi che c'è scritto Minimo Uguale No no Ho visto che c'è scritto Minimo Uguale a minimo Eh qua Abbiamo ricevuto Una cosa negativa Quella che abbiamo potuto Overclockare Ma che cazzo Devo fare Dobbiamo pagare Cinquecento Che cosa Per tre giorni Culo Raga qua Vai Qua andiamo in bancarotta Tra poco Ehm Scusami Fammi vedere Una cosa Cpu Ehm C'è ragazzi Non saprei Io Io Non so come Overclockarlo Questo qua Il computer Caccia Eh lo so Anto Ma Lui mi dice 024 Per 194 Eh Lui vuole Quello Vuole Capito Ti voglio Ti C'è C'è Lui vuole Questo C'è Lui vuole Vedi Cpu Minimo 024 E Megahertz Minimo 190 C'è 194 Quindi io C'è lui vuole Che io Che gli metto La cpu A 020 C'è A 024 Ovviamente E invece Il megahertz 194 Scusa Provo a fare Un'altra cosa Ma Che vedi Questo più di uno Non me lo fa Però se metto così E provo a alzar così 194 Ehm 56% Di probabilità Non va Ehm Quello che problema Tranquillo È il capo Buonasera Provo ad aumentare Provo Se anche Aumentare Ah potrei Anche Provare A No Se vado Aumentare Provo A fare Così O Provo A abbassare Un po Le hertz E Prova Se provo Alza Questo No Allora Facciamo Una cosa I lascio 024 E gioco Un po Con i Neherz Almeno Fale Arrivare Almeno A Proviamoci Sì No Il Minimo Mi dice Non va Fale Overclock Proviamo Così Se va Così Non lo so È 90% Mo Ok Overclock Su Ciò Che Perfetto Li ho Overclockato Ciao Allora Controlliamo Un attimo Allora Il computer Li abbiamo Aggiornato I drive Li abbiamo Aggiornato Qui update Tem 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 Ok Ok Abbiamo Cevato Tutto Perfetto Dai Ok Spegniamo Il computer Togliamo La chiavetta Ok Che cosa Che non gli è piaciuto Vabbè Non lo so Forse Sarà stato L'overclock Non lo so Vabbè Comunque Vabbè Ragazzi Overclockare Ci sta rendendo difficile Pixel computer E pulisci E pulisci Il computer Aspetta Madonna I computer Sezici Hanno Questo Boh Gli è andato qualcosa Assorto Non gli è piaciuto Sicuramente L'overclock Sicuro Io purtroppo Che cazzo Ne so Eh Se non va Non va Mo So due volte Che L'overclock Così Non va Non lo so Ok Via un po' Che ha fatto Sto computer Cpu Problema È La cpu Signori Togliamola Sistemiamola No L'operai Mi costa 1500 Ecco Questo C'ha Già sonno Ost L'operai Ragazzi Ci costa 1500 Cioè Forse a comprarlo 1500 Poi non lo Cioè Assumerlo Poi non so Allora Dobbiamo riparare Il socket 36 Tanto Ce l'ha portato Anche In altro Computer Sì Va beh Lasciate Lasciate Pughe Siamo a spendere Troppi soldi Tra la pitto Luce E qua Boh Io non so più Che devo fare Che devo fare Qua Cioè I computer pagano poco Quello 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 Non c'è manco pagato Il lavoro Dai però Cioè Cazzo Cioè Se c'è Vabbè Vuol di capo Assoluta Proviamo a Non so Vedere un attimo Bene come funziona Questo fatto Dell'overclockare Ma Ok Accendiamo La scheda madre Problema Anche scheda madre Dovrebbe essere Se c'è sonno Sì Scheda madre Vabbè Facciamo una cosa Togliamo la scheda madre Qua La mettiamo a fa Noi ci andiamo Noi ci andiamo a dormire E torniamo Dai tanto Facciamo sub Vai fa la scansione Dai Abitiamo qua dietro Chiudi la porta Arrivo subito Sciama Nostro pupazzo Perdona Permesso Messo Spostatevi Spostatevi Salve Ok Spostatevi